Radio Bruno Davi, 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 Davi avuli aroti Ora si respira, ho provolto la mia barriera Una ponte a ghiera, quante donne che sei stasera La stessa cosa faremo insieme La nostra casa, prima dell'alto C'è ancora un'ora La stessa cosa faremo insieme Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Un saluto dagli amici di Radio Bruni che sono stati miei partner in questa cosa bellissima che io ascolto quotidianamente praticamente perché abito a Bologna Grazie a tutti Grazie a tutti